... Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. In apertura, come ogni vigilia di Natale, nel nostro TG Sport, gli auguri degli sportivi delle squadre molisane, naturalmente dei protagonisti dello sport nella nostra regione. Un augurio speciale di Buon Natale e Felice Annovo da parte del Termo di Calcio. Aguri! Buon Natale dall'Olimpia Agnolese! Colgo anche l'occasione di ringraziare e di fare gli auguri a tutti i tifosi dell'Isernia e a tutta la città di Isernia. Aguro a tutti gli sportivi molisani un buon Natale e soprattutto un anno nuovo ricco di soddisfazioni. Faccio gli auguri pure a Telemolise e come faccio gli auguri a tutti gli addetti a lavori. Cerchiamo tutti quanti di migliorare un po'. Propongo un Buon Natale insieme a tutti i telespettatori di Telemolise. Pronti ragazzi? Al tre! Un, due, tre! Buon Natale! Li! Tanti auguri! Buon Natale! A nome di tutta la società, dei ragazzi, a Telemolise, a tutti gli sportivi molisani e a molisani tantissimi auguri di buone feste e di buon Natale di fine anno. Grazie. Auguri a tutti gli sportivi molisani da parte della Apicli Ternina. Auguri! Auguri! Ne approfitto per fare un grosso in bocca al lupo a Telemolise e a tutti i suoi telespettatori. Buone feste e buon Natale! Ciao, sono Giuseppe Tosches, attaccante del Gambatessa e auguro a tutti i telespettatori e a tutti coloro che lavorano a Telemolise i più sinceri auguri di buone feste. Un augurio a tutta la redazione di Telemolise e a tutti gli sportivi molisani. Buon Natale! Buon Natale! Vogliamo fare tutti gli auguri agli sportivi molisani dal Castel Mauro. Tanti auguri! Tanti auguri a tutti gli telespettatori di Telemolise e da parte dell'US Rocca Sicura. Auguri! Auguri! Allora, tanti auguri a tutti gli sportivi molisani per un buon Natale e specialmente per un inizio di anno nuovo, che ne abbiamo bisogno un po' tutti, veramente. Tanti auguri! 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 Buon Natale! Gli auguri da tutto il gruppo del CUS Molise Basket, ma da tutto quanto il gruppo insomma insieme. Un buon anno a tutti in Serena Natale e vi aspetto sul campo magari per provare a giocare un po' a basket e divertirci insieme. Allora, dall'US Fornelli tanti auguri a tutti gli sportivi molisani, a tutti i nostri sostenitori e a tutta la redazione di Telemolise. Tanti auguri dall'US Fornelli. Allora, auguri di buon Natale a tutti i tifosi del campo basso e sportivi molisani, auguri dal campo basso calcio. Buon Natale! Buon Natale! Auguri! Buon Natale! Colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti gli sportivi molisani e in particolar modo agli amanti del calcio a 5. Tanti auguri dall'SD Santerriana Sanita Calcio a 5. Tanti auguri e buon Natale e felice anno nuovo dal campo basso. Auguri! Aguri di buon Natale a tutti gli spettatori di Telemolise e ai nostri tifosi. Aguri di buone feste a tutti e a tutti gli appassionati di calcio molisano. Aguri di buon Natale e felice anno nuovo. Ciao a tutti, sono Andrea Ambicciatore, gioco nel rastermo e faccio un auguri a tutti i telespettatori di Telemolise. Oggi sul canale 112 Telemolise Sport dopo il consenso di quest'estate andranno in onda durante tutta la giornata le varie edizioni degli Oscar di Telemolise. Naturalmente anche domani nella giornata di Natale. Trasmissione storica ideata e prodotta dalla nostra emittente con tantissimi ospiti di caratura nazionale e internazionale. Da Mia Martini a Donbacchia, a Ron, a Silvan, a Paola Perego, a Manuela Villa, a Fausto Leali. Insomma tanti artisti che sono stati insieme a noi in passato. Inoltre alle 21 andrà in onda la presentazione integrale del nostro calendario 2014 che abbiamo effettuato qualche sera fa presso la sala della Biblioteca Albino di Campobasso. Campionato di Serie D ai Serni alle feste non fermano i lavori del direttore sportivo Dino Pietrangelo alla ricerca di un nuovo allenatore. Sono stati contattati Roberto Carannante e Francesco Specchia, quest'ultimo con oltre 30 anni di esperienza in Serie C. Le feste natalizie dovrebbero portare anche un difensore e un centrocampista vicina anche alla firma di Giuseppe Monaco di Monaco. Inoltre dopo Natale dovrebbero esserci delle novità a livello societario. In Alto Molise la vittoria contro la Renato Curi Angolana ha permesso all'Agnone di chiudere il 2013 con più 6 dalla griglia play out. Ai nostri microfoni il tecnico Granata. Mister Rubano una vittoria importantissima per l'Agnone cercata dall'inizio alla fine. Un call importante è quello di Orlando. Tre punti che stanno veramente di salvezza? No, di salvezza no perché la classifica è deficitaria ancora. Sono tre punti importantissimi che ci permettono di rimanere attaccati al carro della quint'ultima e della sest'ultima. Una partita sofferta, l'abbiamo fatta come la potevamo fare, con delle difficoltà oggettive. Nel primo tempo abbiamo rischiato anche qualche volta di prendere, abbiamo preso delle ripartenze dove abbiamo rischiato anche di prendere gol. Mi sembra in un'occasione è stato bravissimo a Biasella. Però è stata una partita più del cuore che della qualità. Ecco, esposito l'esordio, un contributo valido alla causa dell'Agnone. Le qualità di vittorio sono indiscutibili, però dobbiamo metterlo anche nelle condizioni di poter giocare nel miglior modo possibile. Ha bisogno di una pripista, ha bisogno di un riferimento lì davanti, altrimenti oggi Pifano ha giocato in tutti i ruoli. Mancava solo che lo mettessi in porta. Ha iniziato attaccante punta centrale. Poi durante la partita l'ho spostato quarta a destra di centrocampo. Dopo che abbiamo fatto gol l'ho portato giù quarta a destra di difesa. Però è un ragazzo che dà l'anima. Per fortuna che abbiamo il rosa dei giocatori di questo tipo, di questo spessore. Però ci vogliono dei giocatori specifici. Ecco, l'Agnone è cambiato moltissimo in questo ultimo francente. I giocatori che sono andati via, i giocatori che sono arrivati. In che prospettiva l'Agnone si presenta per il 2014? Allo stato attuale siamo ancora incompleti, secondo me. Abbiamo migliorato sicuramente il parco Under, che avevamo detto tutti di cui avevamo bisogno. Abbiamo preso Esposito, che è un giocatore importantissimo, di grandissima qualità. Anche se oggi poi verso la fine è calato un pochettino. Però anche quando ci appalla il piede è sempre capace di inventare qualcosa. Sono andati via 7-8 giocatori, di cui mi sembra 6 o 7 grandi. Chi per un motivo, chi per problemi fisici, chi perché non aveva più le giuste motivazioni. Io credo che siamo migliorati sicuramente sul parco degli Under. Abbiamo preso Esposito che è un giocatore forte, molto forte per la categoria. Dobbiamo prendere un terminale, dobbiamo prendere un attaccante con determinate caratteristiche. La società lo sa questo, lo sappiamo tutti. Oggi era un rischio calcolato perché prendere un giocatore, tanto per prenderlo, per fargli fare la partita di oggi, probabilmente è un giocatore che poi non ci serviva. Abbiamo preferito, calcolando anche il rischio, di rischiare di pareggiarla a questa partita, o addirittura di perdita, però meglio non avere fretta, fare le cose con calma e cercare il giocatore funzionale a noi. A Termoli, mister Giacomarro ha dato il rompete alle righe. Il 27, la squadra adriatica si ritroverà in Riva all'Adriatico per gli allenamenti. Venerdì ci sarà il primo allenamento in giallo-rosso anche per Giuseppe Todino, capitolo boiano. Ieri riunione tra Di Conza e Antonio D'Andrillo, collaboratore di mister Giglio. Non si è presentato il direttore sportivo Caggiano. Le parti si sono dati tempo fino al 3 gennaio per definire lo staff tecnico. Venerdì i Matesini riprenderanno gli allenamenti sempre a Foggia, ma Giglio ha chiesto di far rientrare la squadra nel Molise. Per il calcio regionale, tre giorni di stop, anche per il campo basso, mister Farina dal 27 si ritroverà con la squadra per gli allenamenti, a differenza della Serie D che riprenderà il 5 gennaio. Il campionato d'eccellenza riaprirà il 12. Ne abbiamo parlato proprio con Francesco Farina. Una buona vittoria, nota positiva è che si è sbloccato Monti. Finalmente ha tirato molte volte in porta in questo girone di andata e oggi ha segnato. Sì, sì, Matteo è uno che ci prova sempre, almeno una o due volte è partita, però tante volte sbaglia l'impatto con la palla, altre volte i portieri gli fanno grosse parate. Ho già trovato lo speraglio giusto, anche se è aiutato da una deviazione. Però mi fa piacere perché era uno degli offensivi nostri che ancora non aveva fatto gol. Cianci dall'inizio aveva giocato anche in Coppa Italia a sesto campano. Come giudichi la sua partita? No, Francesco ha fatto un grosso secondo tempo, secondo me. Il primo tempo è partito fortissimo, i primi 20 minuti poi ha avuto una pausa. C'è da dire che lui deve aiutare un po' abbastanza pure Volpicina che era un po' acciaccato. Poi ha fatto il suo finale di partite in crescendo, il ragazzo sta venendo su bene, deve solo pensare ad allenarsi bene, stiamo facendo pure un lavoro in palestra con lui per cercare di robustirlo. Deve stare solo tranquillo e dare il massimo in tutti gli allenamenti. Da quel poco che ho visto interessante il debutto del nuovo arrivato Santoro. Sì, io l'ho fatto esordire perché era l'unico giocatore della Rosa che ancora non aveva giocato, non per meriti di allenamento, anche perché si è allenato con noi solo tre o quattro volte. Però è un ragazzo che mostra in allenamento delle buone toti, dobbiamo cercare soltanto di inserire anche lui e bisogna lavorare tanto con questi under. Il Fornelli ha chiuso l'anno con il successo con la Cliternina. Biancoverti che alla ripresa del campionato saranno di scena a Sesto Campano, una delle trasferte più difficili. Tornando all'ultima di campionato, ai nostri microfoni, Francesco Grillo. Ciccio Grillo, Servia, questa vittoria, complimenti. Grazie per i complimenti. Sapevamo che affrontavamo una squadra molto tosta oggi, anche se non sbaglio con 4-5 squalificati. Però l'importante, come hai detto tu, oggi era vincere e passare un bel Natale. Avete giocato però con una grande squadra giovane che sta lottando in questo campionato di eccellenza per cercare la salvezza. Sì, già all'andata, già mi ha fatto una buona impressione. Poi comunque, ti ripeto, noi venivamo anche da una finale mercoledì e non era facile oggi, si è visto. Infatti bisogna adesso preparare la squadra dopo questi brevi giorni di Natale, prima di questo incontro che dovrete fare e poi finalmente giocarvi la finale contro il Campobasso. Sì, noi ci prendiamo questi 3-4 giorni di festa e poi il 27 si riparte, ancora più carichi. Se non sbaglio abbiamo tre partite prima della finalissima, le affronteremo come sempre per vincere e poi ci andremo a fare finalmente questa benedetta finale. L'unico problema che ci sarà il centrocampo sarà l'assenza di vincione nella finale che appunto è squalificato. Sì, Vincenzo per noi è un perno, l'ha dimostrato, però comunque abbiamo gente in panchina che comunque farà la sua gara. La Cliternina ha chiuso il 2013 conquistando 15 punti. Nel post-gara di Fornelli ai nostri microfoni, Di Santo. Di Santo la tua squadra non ha provato a dare il massimo, però non è riuscita nell'impresa. Lo so, purtroppo questo è un campo difficile, loro sono una squadra molto forte, come abbiamo visto, però ce l'abbiamo messa tutta e alla fine abbiamo preso due gol. Nel trentesimo del secondo tempo aveva retto la difesa, però. Sì, siamo riusciti a fermarli bene anche, l'unica cosa è che nelle incursioni alla fine sono riusciti a entrare e ci hanno fatto gol. Guardando i numeri siete una squadra giovanissima. Sì, siamo una squadra molto giovane, quindi anche in esperta, però cerchiamo sempre di dare il massimo ogni volta che scendiamo in campo. Credo che questa sia una qualità molto bella. Ci si potrà trovare questo obiettivo della salvezza? Noi speriamo, diamo il massimo per questo e lotteremo fino alla fine con ogni squadra, dalla prima all'ultima. Adesso potetevi le vacanze di Natale e poi riorganizzare la squadra e cercare appunto questa stimata salvezza. Sì, certo, dobbiamo dare il massimo e rientrare sempre più pronti di prima. Su Tele Molise 2, canale 12, oggi alle 17, andrà in onda la telecronaca fra Campo di Pietra e Rocca Sicura. Per il nuoto, Amelia Mascioli, presidente del centro M2 di Campo di Pietra, si è detta soddisfatta del 2013, ma non si sbilancia sugli obiettivi per il prossimo anno. Noi l'abbiamo intervistata durante il saggio di Natale. Amelia Mascioli, presidente dell'M2, il 2013 sta terminando un bilancio di questa fine stagione. Allora, in realtà proprio stasera chiudiamo il primo trimestre della stagione natatoria per quanto riguarda la scuola nuoto con il saggio di Natale, che quest'anno ha avuto come tema il racconto di una favola, proprio perché probabilmente in un momento in cui c'è davvero poco di bello da raccontare, avevamo pensato di fare un regalo alle famiglie che potesse in qualche modo raccogliere un po' di sorrisi e sicuramente un abbraccio per questo Natale. Per quanto riguarda la nostra chiusura, senza dubbio siamo contentissimi perché il lavoro che stiamo facendo con i ragazzi, con la scuola nuoto e anche con l'agonistica sta portando i suoi risultati e infatti questo momento, cioè il prima di Natale, è anche un momento per stare insieme, per fare il resoconto di questa prima parte dell'anno che sicuramente è positivo. Il centro M2 è un centro sportivo di benessere e da poco ha aperto una galleria commerciale in questo periodo difficile. Sì, in realtà l'idea di realizzare un polo attrattivo era proprio quella di poter garantire un maggior numero di servizi ai fruitori dell'impianto, per cui oltre a tutta quanta la parte relativa allo sport, per cui sia all'acqua che al fitness in generale, finalmente da poco, da una settimana, siamo riusciti a inaugurare anche la galleria commerciale. Dico finalmente perché ovviamente in un momento critico come questo non è stato facile, anzi tutt'altro, però è da premiare nella voglia, il coraggio e la forza dei giovani imprenditori che nonostante tutto si mettono in discussione e che hanno dato vita insieme al nostro sostegno alla galleria commerciale che ha ovviamente un supermercato e i negozi esattamente come un qualunque centro commerciale. Per cui diciamo che riusciamo a dare al cliente tutti quanti i servizi, da quello sportivo a quello legato al benessere e ovviamente a quello di consumo. Per cui cerchiamo di far sì che l'M2 possa essere un contenitore capace di soddisfare tutte quante le esigenze di chi ci sceglie. Questa mattina l'ASD Gruppo Vogatori Termoli si è ritrovato presso la Marina di San Pietro per festeggiare il Natale insieme ai suoi soci attraverso la regata di Natale. L'equipaggio composto da dieci rematori e un timoniere è partito dal porto turistico Termolese per poi fare tappa sul lungomare nord all'altezza dei Trabucchi, quindi virare e rimettere la prua in direzione della Marina di San Pietro. Il tutto per far conoscere l'associazione e il meraviglioso mondo della voga a sedile fisso. Calcio a 5 di Serie C2, il Sant'Elena Acqua Molise è uscita in semifinale di Coppa Italia a testa alta. Non è bastato il successo per 5 a 2 contro il Cerce Maggiore. Ne abbiamo parlato con Federico Terriaca. Federico Terriaca, giocatore della Sant'Elena, calcio a 5. Allora è arrivata una vittoria amara insomma perché poi alla fine 5 a 2 si è fuori per un gol. È stata comunque una partita in cui avete dato tutto. Sì, sì, sicuramente. Sapevamo che la partita era in salita sin da subito. Infatti sapevamo che dovevamo fare tre gol per vincere la partita e non subire nemmeno uno. La partita si è messa in salita purtroppo dopo qualche minuto. Abbiamo subito il gol e quindi abbiamo dovuto rimboccarci le maniche. Siamo stati bravi nel secondo tempo a riaprire la partita. Quello che è piaciuto è che avete retto l'infortunio di Sant'Oro che è stato un infortunio grave. Avete retto più volte la superiorità numerica del Cerce Maggiore. Insomma, non siete mai crollati anche nei momenti più difficili. Oggi secondo me è stata una partita fatta di tanto cuore. Siamo andati spesso, come hai detto tu, in inferiorità numerica. Però siamo stati bravi a reagire a questi momenti di difficoltà. Direi che ne siamo usciti alla grande. Infatti volevo fare i complimenti a tutta quanta la squadra per la reazione e per il cuore che ci abbiamo messo. Forse la qualificazione è stata persa all'andata? Sì, sicuramente abbiamo compromesso la partita nel match d'andata. Però non è un attenuante. Sicuramente la vittoria di oggi ci carica molto per le prossime partite del campionato e per il proseguimento del campionato. Un campionato dove c'è una squadra che sta praticamente facendo la voce grossa. Ne ha vinte tutte, ha pareggiato solo contro di voi. Che stagione è stata fino adesso la vostra? Sicuramente noi abbiamo commesso dei passi falsi. Questo è poco mai sicuro. Però sappiamo benissimo che siamo una squadra che se gioca praticamente come abbiamo giocato oggi può mettere in difficoltà chiunque. Come sono le prime della testa. Ecco appunto, a questo punto nel ritorno dovete chiaramente invertire forse un po' di più il senso di marcia. Sì, sicuramente. Ce la metteremo tutta per fare i più punti possibili e per giocarcela per le zone alte del campionato. Perché penso che la nostra squadra sia una squadra attrezzata per quello. Si svolgerà venerdì prossimo a Termoli la prima edizione del torneo natale a Canestro. riservato ai ragazzi della categoria Under 13. Oltre alla squadra di casa, nonché società organizzatrice, la Termoli Young, parteciperanno anche la BCC Vasto, il Cerignola e la Libertà Benevento. Il programma prevede una serie di incontri. A partire dalle 9.30 la finale ci sarà alle 17.30. Come sempre il Cus Molise ha chiuso l'anno con le feste di Natale dei settori giovanili. Soddisfatta il presidente Giovanna Viola che ringrazia chi ha creduto nella struttura dell'Ateneo. Giovanna Viola, presidente del Cus Molise, diciamo 2013 che si chiude, c'è la chiusura un po' dei settori giovanili e delle attività con le consuete feste di fine anno? Sì, quest'anno come tutti gli anni ormai consuetudine diamo la possibilità e spazio ai settori giovanili per dimostrare e per far vedere ai genitori quello che hanno imparato fino adesso con noi. È un modo per darci gli auguri di Natale, per augurarci buon anno e soprattutto per essere tutti riuniti qui al Palau Unimol che è uno scenario sempre gradevolissimo. Quest'anno queste piccole festicciole sono all'insegna della spending review perché come in tutti i settori ci sono talli, però vogliamo lasciare un segnale e vogliamo dare un augurio sincero a tutte le famiglie. Ecco dunque anche un ringraziamento alle famiglie che scelgono il marchio del Cus Molise un momento soprattutto per i genitori questo qui dato che adesso poi se ne riparlerà alla ripresa delle scuole perché come Cus Molise seguite anche il calendario scolastico. Esatto, sì, noi dobbiamo sempre ringraziare tutte le famiglie che ci sono vicine che ci danno la possibilità di crescere perché devo dire che i settori giovanili quest'anno sono cresciuti in maniera importante. È un segnale di professionalità, è un segnale che questa famiglia funziona e quindi non dobbiamo solo ringraziare loro che ci danno la fiducia e la possibilità di fare attività. Riprenderemo intorno alla metà di gennaio proprio perché seguiamo anche noi il calendario scolastico e soprattutto per dare un po' di riposo, giusto riposo ai nostri istruttori che lavorano tutto l'anno. Infine non può mancare la consueta domanda di fine anno. Il 2013 è stata una stagione in cui hai vissuto dall'inizio alla fine come presidente del Cus Molise e quindi chi meglio di te magari può tracciare tra virgolette un bilancio di questo anno che si sta chiudendo? Eh beh sì è stato il primo anno pieno in cui sono stata la presidenza del Cus Molise e devo dire è stato un anno pesante perché appunto lo dicevamo prima la crisi economica si è fatta sentire anche qui da noi però devo dire che si chiude con una positività e con una speranza per il futuro perché i numeri ci sono e poi c'è questa rinnovata collaborazione con l'università noi lo diciamo sempre siamo la stessa cosa ma adesso più che mai con una nuova governance possiamo sicuramente crescere e rendere migliore questa struttura. Adesso vediamo i risultati che sono maturati nel campionato di seconda categoria in testa al girone A troviamo Matese 30, Monte Roduni 24, Mignano 21 Andiamo ai risultati del girone B Macchiacodena Roccamandolfi 0 a 0 Bagnolese G Macchiacodena 3 a 5 Castropignano San Pietro in Valle 1 a 1 Sant'Angelo Chiauci 4 a 3 Salcito Amatori Calcio 0 a 5 Sporting Torella Torella del Sannio 1 a 1 Riposato Pescolanciano In testa al girone B Amatori Calcio Boiano 31 Pescolanciano e Sporting Torella 17 I risultati del girone C Campolieto Bussese 1 a 2 Fiamma Reds 1 a 1 Riccia Gambatesa 3 a 2 San Giovanni Ingaldo San Marco 0 a 1 Trearchi Montagano 1 a 0 Valle del Tammaro Carlantino 0 a 0 Riposato Celenzia In testa al girone C troviamo Trearchi 29 Carlantino 24 Fiamma Folgore 21 E infine i risultati del girone D Isola Croata Terventum 3 a 3 Mafalda 4 Torri 1 a 2 Portocannone Mucciufuni 1 a 2 Ripabbottoni San Felice 1 a 1 Roccapivara Castellino 2 a 1 Rotello Limosano 0 a 1 A riposato Mondimitar In testa al girone D troviamo Portocannone 27 San Felice 4 Torri 23 Bene è tutto per questa edizione Del nostro TG Sport Naturalmente buona vigilia di Natale A tutti quanti voi TG Sport www.tg Sport Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.